E ora preghiamo ovviamente a Dio nostro Padre perché questi nostri fratelli scelti per il Ministero di Accoliti dicevano con abbondanza la sua benedizione e siano confermati nel fedele servizio della Chiesa. Padre Clementissimo, che per mezzo del tuo unico figlio hai messo l'Eucaristia nelle mani della Chiesa benedici questi tuoi figli, eletti al Ministero di Accoliti fa che sì nel servizio dell'altare distribuiscono fedelmente il pane della vita ai loro fratelli e crescano continuamente nella fede e nella carità per l'edificazione del tuo Regno per Cristo nostro Signore. Ci ricali se con il vino per la celebrazione dell'Eucaristia e la tua vita sia degna del servizio alla mensa del Signore e della Chiesa. Grazie. Grazie.